Ciao a tutti ragazzi, buonasera, buongiorno a tutti. Come va? Cominciamo allora. Uii, quanta gente. Come state? Aspettiamo ancora un minuto per capire chi c'è e chi non c'è. Abbiamo 43 studenti. Ciao a tutti, ciao. Un attimo eh. Facciamo... così si vedono anche i messaggi forse, sì. Ciao a tutti. Allora, come sapete questa è una sessione di domanda e risposta o domande e risposte in italiano per studenti di livello avanzato. Quindi parlo in italiano ma cerco di parlare un po' più lentamente, ok? Così capite la spiegazione perché sono domande tecniche con le risposte tecniche, ok? Allora, cerco di parlare un po' più piano del normale. Ciao a tutti, buongiorno, grazie mille ai moderatori che avete un compito facile, è importante, ma di controllare che la chat sia tutta pulita, non ci siano persone maleducate. Altrimenti, via, block user. Ok. Ciao a tutti. Allora, 49 studenti. Bene, cominciamo quasi quasi fra poco. Cosa volevo dirvi? Una cosa che io mi dimentico sempre è che... un attimo... se voi... se mi guardate su Facebook dovete venire su YouTube per fare le domande, altrimenti io non posso... non vedo le vostre domande, ok? Quindi se siete su Facebook venite su YouTube, ok? Quindi YouTube, cercate Italy Made Easy... Boh, non lo so come funziona. Comunque. Un'altra cosa. Questo video è in italiano ma se voi tornate fra 4-5 giorni trovate i sottotitoli in italiano. Così è più facile capire se... se avete problemi, ok? Allora, perfetto. Cominciamo con la prima domanda. Chi ha una domanda? Se avete una domanda scrivete la domanda e io cerco di rispondere. Vi confesso che io non sono molto bravo a pensare esempi così al volo. Quindi perdonate se i miei esempi sono un po' stupidi. No, no, Romualdas, potete partecipare tutti, sicuramente, sicuramente. Ma la mia risposta è in italiano e quindi se sei un principiante probabilmente non capisci la risposta. Ma forse sì, che ne so. Proviamo? Avete una domanda? Saluti a tutti i paesi che vedo, Stati Uniti, Serbia, Brasile. Allora... George dice... Cioè, insomma, forse... How similar are those? Are they interchangeable? Non, assolutamente no. Hanno significato molto diverso. Allora, cioè si usa quando vogliamo spiegare quello che abbiamo detto. Quindi, in inglese diremmo that is... ok? Poi faccio gli esempi. Allora, qual'era? Cioè, insomma... Insomma si usa quando abbiamo parlato per un po' e vogliamo tirare le somme e quindi dire per concludere... ok? In inglese potremmo dire... So basically, to wrap things up, ok? E poi forse... forse significa quando abbiamo un dubbio. Quindi in inglese potremmo dire maybe or perhaps, ok? Allora, torniamo indietro, facciamo qualche esempio. Allora... ok, per esempio. Io sono vegan e cioè non mangio prodotti animali. Quindi io sono... e cioè... e significa che... e cioè... e significa che... è la spiegazione. Mentre, insomma... per esempio noi stiamo parlando di andare a cena fuori. Allora, io dico di andare in pizzeria. Tu dici di andare a una rosticceria. Tu vuoi mandare... vuoi andare a mangiare la pasta. Tu vuoi stare a casa. Quindi tutti abbiamo un'opinione diversa. E parliamo e parliamo. Facciamo così, facciamo così. Alla fine io dico... insomma, ragazzi. Dove andiamo? Insomma. Dopo aver parlato per tanto tempo. Insomma. Insum. Un po' anche in inglese, no? Per concludere, ok? E forse significa quando c'è un dubbio. Forse domani vado a Firenze. Però non sono sicuro. Quindi forse è quando c'è un dubbio. Allora, controllo le domande. Allora... So che vuol dire cioè, ma ho sentito anche ciò in questo contesto. Come si usa ciò? Ciò non significa cioè. Ciò si usa per dire questo. E' una parola vecchia per dire questo. Quindi possiamo dire io non capisco ciò che dici. Io non capisco ciò che dici. Quindi in questo caso ciò è un sinonimo di quello. Io non capisco quello che dici. Per esempio io posso dire ciò che vedi è bellissimo. E' come dire quello che vedi è bellissimo. Quindi ciò è una parola che significa quello o questo, dipende dal contesto. Come pronome, non come aggettivo. Ok. Insomma significa allora? In alcuni casi sì. In alcuni casi sì. Però ricordati che insomma... Tu pensa alle parole insomma. Somma. The sum. Quindi usiamo insomma quando dobbiamo concludere una cosa dove ci sono vari elementi. Quindi insomma per concludere. Quindi spesso allora funziona come insomma ma altre volte no. Ok. Però sì, molto spesso sì. Molto spesso sì. Romualdas, mica tanto che significa? Mica tanto è come dire no, non molto. Per esempio. Non lo so. Manu, tu parli giapponese? Eh, mica tanto. E' come dire no, non parlo molto giapponese. Anzi, parlo molto poco. Diciamo che usiamo mica tanto quasi con un senso ironico. Quasi con un senso ironico. Per esempio tu fai sport tutti i giorni? Eh, mica tanto. E' diverso da dire no, non proprio. No, non faccio sport tutti i giorni. Mica tanto è un po' più ironico. È un po' più ironico. Allora, George contento della spiegazione. Come si dice interchangeable? Aspetta, te lo scrivo. Aspetta. Intercambiabile. 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 Ok, allora. Aspetta che ho molte domande. Intercambiabile. Che significa mica? Mica è una parola che rafforza una frase negativa. Quindi per esempio io non parlo italiano. Io non parlo italiano. Io non parlo mica italiano. È come dire... Tu pensi che io parli italiano ma io non parlo italiano. In inglese possiamo tradurre con... Non gioco mica a tennis tutti i giorni. Quindi la differenza è non gioco a tennis tutti i giorni. Non gioco mica a tennis tutti i giorni. It's not like I play tennis every day like you expect. Quindi è un significato leggermente diverso, ok? Quante domande, scusa. Daniel, il passato remoto si usa spesso? Allora, il passato remoto è una forma di passato italiano che si dice che è obsoleta, ma in effetti no. Allora, nel sud di Italia si usa il passato remoto e non il passato prossimo. Quindi per esempio se in italiano diciamo ieri sono andato a Firenze, nel sud useremmo ieri andai a Firenze, quindi con il passato remoto. Nell'italiano standard generalmente non si usa nel parlato, però non è vero. Non è vero. Perché quando parliamo di eventi molto 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 antichi dobbiamo usare il passato remoto. Per esempio è un po' strano sentir dire che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Perché l'ha scoperta 500 anni fa. Quindi Cristoforo Colombo scoprì l'America. È sicuramente più bello con il passato remoto perché quando ci pensiamo passato remoto è lontano. Quindi se parlate di cose veramente veramente storiche usiamo il passato remoto. Anche nel nord. Allora. Una domanda di ortografia Vittor. C'è una regola per sapere quando usare doppia G o doppia T? Non sono sicuro se c'è una regola. È una questione di quando lo senti. E forse tu sei ispanico Vittor? Allora. Perché la doppia G e la doppia T non esiste in spagnolo. Allora. È una questione di sentirla e non c'è una regola vera. Ci sono parole che hanno una G e due G. Quindi non... Non c'è una regola. Mi dispiace. È una questione di sentirla. Per esempio... Vediamo... Se ho parole con la... Ok. La differenza fra Magio e Maggio. Magio è una parola che si usa per i tre Re... Come si dicono? It's like the three wise men. I Re Magi. Ok. Mi pare. Oddio no. Ho detto una... Ho detto una cretinata. Scusate. Non sono sicuro. Aspetta eh. Qual è il modo migliore di maggiore... Di migliorare la lingua? Come si migliora la lingua? Kylie secondo me la lingua si migliora parlandola. Più errori facciamo più impariamo. Se in un giorno tu fai solo due errori secondo me non stai rischiando abbastanza. Ogni giorno devi fare cento errori perché più errori fai più migliori la lingua. Poi ovviamente devi parlare con persone madrelingua quindi con italiani. Devi ascoltare molto italiano attivamente e passivamente però secondo me è così che si migliora. Puoi leggere ma non mi preoccuperei troppo della grammatica quindi non leggere la grammatica ma leggere libri, giornali, cose interessanti. Allora... Parliamo di mica. Mica si usa dopo un verbo. O prima o dopo. Sì. O dopo... Quindi non verbo e mica. Non mangio mica... Non lo so. Non mangio mica la pizza tutti i giorni. Quindi non verbo e mica. Oppure si può mettere prima del verbo, questo è interessante, senza il verbo negativo. Mica mangio la pizza tutti i giorni. Ha lo stesso significato quindi mica mangio la pizza tutti i giorni o non mangio mica la pizza tutti i giorni. Perfetto? Allora... Vlado, come si chiama il modo temporale avevo detto? Allora, avevo detto. Quando noi lo guardiamo è composto, è un verbo composto. La prima parte è un imperfetto e la seconda parte è un participio passato. Quindi, come si chiama? Vediamo se qualcuno lo sa. Si chiama trapassato. Il trapassato. Trapassato. Perché è una cosa che è successa prima di un altro passato. Quindi per esempio. Quando sei andato in Italia, questo è un passato prossimo. Quando sei andato in Italia, avevi già studiato l'italiano. Questo passato è successo prima del passato prossimo. Quindi sulla linea del tempo, sulla linea del tempo c'è prima il fatto che tu hai imparato l'italiano. e poi il fatto che sei andato in Italia. Quindi, ripeto, quando sei andato... Anzi, lo scrivo. Lo scrivo. Allora... Quando sei andato in Italia, passato prossimo, avevi già... Con l'accento ma non... Non lo posso fare. Avevi già studiato l'italiano. Quindi quando sei andato in Italia, passato prossimo, avevi già studiato. Quindi prima di andare in Italia, tu avevi studiato. E quello si chiama trapassato. Credo. Io... Non mi importa molto personalmente. Anche se io insegno la grammatica, io so che la grammatica non è importantissimissima, ok? Quindi a me il nome delle cose non interessa più di tanto. Però sì, se lo cerchi si chiama così. Allora... E si chiama trapassato. E una parola trapassato. Allora... P.J. Ciao. Qual è la differenza fra tavolo e tavola? Oh, adoro, adoro questa cosa. La differenza fra tavolo e tavola. Allora... Controlliamo un attimo. Oh. Allora, la differenza fra tavolo e tavola. Tavolo è il nome del mobile. Quindi per esempio abbiamo l'armadio, abbiamo la sedia e abbiamo il tavolo. Quindi per esempio io vado a comprare un tavolo. Oppure il tavolo si è rotto. Quindi quando parliamo del mobile usiamo tavolo. Maschile, il tavolo. Quando usiamo il femminile è perché parliamo dell'esperienza del mangiare sul tavolo. Quindi per esempio se io entro a casa tua per una festa e tu hai preparato una tavola bellissima, io dico, vedi, che bella tavola. Perché io non parlo del mobile, del pezzo di legno. Io parlo della presentazione del tavolo. Oppure quando la cena è pronta, generalmente diciamo a tavola, a tavola. Che significa venite al tavolo per mangiare. Quindi tavola è associato al mangiare e tavolo è il mobile. Allora. Aspetta eh. Grazie a tutti, grazie a tutti. Come sapere dove cade l'accento ad esempio? Perché chilometro è in chilogrammo. Jean Paul, questa è una cosa veramente difficile. Sicuramente c'è un motivo etimologico. Per esempio la parola viene dal greco o dal latino. È composta con una parola… probabilmente c'è il motivo. Però la verità è che non possiamo saperlo perché dovremmo conoscere l'etimologia di tutte le parole. E neanche io come italiano linguista conosco l'etimologia di tutte le parole. Quindi non c'è un vero motivo, mi dispiace. Chilometro, chilogrammo. Fammi vedere se riesco a trovare… no, non riesco a trovare la spiegazione. Quindi non credo ci sia. Se qualcuno la sa ma non so, non so. È una questione di imparare ogni parola con l'accento giusto purtroppo. Allora, sei andato… Kylie, sei andato a Arezzo c'è una gelateria che è perfezione. No, non sono mai andato ad Arezzo. Mi dispiace. Come si dice figure of speech? Credo, dipende dal contesto, ma è un modo di dire. È un modo di dire. Quindi it's a way of saying. O, come hai scritto prima, nel senso figurato. Quindi quando dici una cosa in senso figurato. Allora, 75 studenti. Ok. Claudia, esatto. Quando vedi tavola calda, tavola fredda. Tavola calda, sì. Perché loro parlano del cibo e non del mobile. I cavalieri. I cavalieri. Cos'hanno i cavalieri? Non mi ricordo. Oddio. Della tavola rotonda. Sì, la tavola rotonda. The round table. Quello storico, sì. Allora. Perfetto. È così che impariamo. Perfetto. È così che impariamo. Perfetto. Aussie block. The knights of the round table. I cavalieri della tavola rotonda. Esatto. Come si dice small talk? Questa è una domanda interessante perché in italiano non c'è un'espressione specifica per dire small talk. Quindi tu ti riferisci quando per esempio sei sull'autobus e parli con il vicino che non conosci. Quindi è una conversazione superficiale. Allora, in italiano possiamo dire parlare del più e del meno. Adesso lo scrivo. Allora. Parlare del più... Con la scente... Scusate. Del più e del meno. Parlare del più e del meno significa più o meno dire cose così non importanti, un po' casual. Vedo una domanda sui dialetti. Mi calito. My parents are from Napoli and think they may speak a dialect because it's slightly different from... Sì. Come dice... Gris? Allora... Gris, devo parlare con te. Grazie mille. Ti mando un'email quando posso, Gris. In Italia ci sono moltissimi dialetti e come ho detto l'altra volta, per il 70% degli italiani italiani il dialetto è la prima lingua, è la madrelingua e l'italiano è la seconda lingua. Tutti parliamo italiano, ovviamente. Però... Adesso... Allora, quando tu dici i miei genitori sono di Napoli, quando sono andati... quando sono emigrati? Perché se sono emigrati dopo gli anni 60 o 70 allora parlano italiano con un accento napoletano per esempio. Ma se sono emigrati prima, quindi prima negli anni 50, negli anni 40 o ancora prima sicuramente parlano il dialetto. E questo è vero per quasi tutti i paesi d'Italia. Gli emigrati generalmente parlano il dialetto se sono emigrati tempo fa. No. Allora... Claudia, sono andata in Piemonte ed è molto difficile perché parlano piemontese. Piemontese, sì. I dialetti sono difficili anche per me. Neanche io capisco i dialetti. Se una persona mi parla in dialetto non capisco. Se parlano con un accento allora sì perché l'accento è bellissimo. Quindi possiamo parlare italiano con un accento romano, italiano con un accento napoletano, con un accento siciliano, italiano con un accento milanese. E questo è bello e si capisce. Ma se parliamo il dialetto non c'è speranza. Dipende dal dialetto. Allora... Quante domande, quante domande scusate. Cerco di leggere tutte. Benissimo, sono contentissimo e questo è il mio scopo, il mio obiettivo. Devo darvi materiale in italiano con i sottotitoli fra 4-5 giorni e aiutarvi a sentire la lingua, a prendere... non un accento, però anche io ho un accento sicuramente, capito? Anche il mio italiano ha un piccolo accento. Anche se generalmente mi dicono che io parlo l'italiano standard, diciamo quello della televisione, per dire. Allora, vediamo se ho saltato qualche domanda. Ci sono tantissime domande e 80 studenti. Allora... Troppe, non le vedo. Troppe domande. Bene, allora diciamo... diciamo che basta così per oggi, dai. Allora, vi ricordo di andare a italymadeeasy.com barra... Ok. Ho la tastiera italiana e devo cambiare con la tastiera inglese, scusate. Se voi andate a italymadeeasy.com live potete iscrivervi così io vi mando un'email una o due ore prima di uno show dal vivo. Ok? Quindi prima di un live show vi mando un'email se andate lì e mettete l'email. Un'altra cosa che volevo dirvi che mi dimentico sempre... Ah! Se questa lezione vi piace, fate mi piace, per favore, che aiuta molto perché noi non ci pensiamo... Ah, grazie Manu, ma fate thumbs up perché così YouTube capisce che a voi piace il mio contenuto, ok? E poi un'altra cosa che mi dimentico sempre di dirvi... Mi dimentico sempre di dirvi ma non lo dico. Iscrivetevi. Iscrivetevi se non siete iscritti perché è importante. Allora, grazie mille a tutti. È stato come sempre un piacere parlare con voi, rispondere alle vostre domande. C'è anche qualcuno dal Canada. Velocemente. Can you get around using standard Italian in Napoli? Sì. Puoi andare in tutta Italia e usare l'italiano. Il contrario. Loro possono forse non parlare l'italiano con te perché soprattutto se sono persone più anziane, quindi più vecchie, forse non parlano l'italiano benissimo. Ma tu puoi sempre usare l'italiano. Sì, sicuramente. Guatemala. Oh che bello. Perfetto. Sì sì, parlo in italiano in tutta Italia. Parlo in italiano in tutta Italia. Non vi preoccupate. Un bacione. Allora vi saluto e ci vediamo presto, sicuramente presto. Allora se avete fatto mi piace, io vi ringrazio. Se non l'avete fatto per favore fatelo. Grazie mille, vi voglio molto bene. Un bacione. Ciao. 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 Grazie a tutti.